E' stata superata la selezione tecnica nella sezione documentari del David di Donatello. Parliamo così adesso di cultura, perché è stato inserito tra i candidati anche umanamente Totò, poi il comico, con la regia di Alberto Di Marco e franco esposito con il catanese Francesco Larosa nel ruolo di director special guest. Quest'ultimo, tra l'altro a febbraio, aveva vinto il premio De Curtis con il lungometraggio Maledettissima Tu.